Una risposta è importante ai genitori del Friuli Venezia Giulia che si trovino ad affrontare la positività al covid dei propri bambini. È stato siglato a Palmanova dal vice governatore Riccardo Riccardi l'accordo tra la regione e le organizzazioni sindacali FIMP e Cipe dei pediatri di libera scelta per l'attuazione del rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione del coronavirus. Nel dettaglio i pediatri di libera scelta si impegnano a svolgere quell'attività di sorveglianza sanitaria declinata nelle fasi dell'effettuazione del tampone antigenico rapido e della successiva eventuale presa in carico del paziente. Da parte loro il commissario per l'emergenza della regione attraverso le articolazioni del sistema sanitario e per garantire ai pediatri le migliori condizioni di lavoro metteranno a disposizione i tamponi antigenici, gli spazi dove effettuare gli esami e i dispositivi di sicurezza oltre a provvedere alle sanificazioni, al trattamento dei rifiuti speciali e alla disponibilità del sistema informatico per la registrazione dei dati. C'è l'impegno dei pediatri a svolgere tutta quell'attività di sorveglianza sanitaria, quindi il tampone e soprattutto la presa in carico. Noi speriamo che questo sia un accordo al quale si possa aggiungere anche quello della medicina generale e quindi le strutture pubbliche metteranno a disposizione quelle che sono i presidi di sicurezza per i medici e metteranno soprattutto a disposizione, qualora vengano richiesti, le strutture che consentano di avere maggiori margini di sicurezza in ordine ai percorsi. Quindi è un accordo che io giudico importante e lo giudico importante non soltanto per il tampone perché si chiarisce un percorso molto più chiaro e soprattutto noi spieghiamo che la presa in carico ci aiuti a governare anche quella incertezza che ci rendiamo conto possa esserci nel momento in cui qualcuno pensa di aver contratto un virus e quindi ha a disposizione il proprio pediatra, il proprio medico in maniera che lo possa seguire e consigliare rispetto all'andamento del proprio malessere.